Il pesante tributo pagato da tutto il territorio provinciale in materia di dissesto idrogeologico quest'anno è stato pesantissimo. Milioni e milioni di danni in ogni angolo del territorio per strade completamente scomparse, frane, smottamenti più o meno importanti, intere colline in movimento e frazioni isolate come nel caso del comune di Pergola o a Fermignano o San Costanzo, solo per citarne alcuni, ma non c'è stato comune passato indenne dalle abbondanti nevicate e poi dalle precipitazioni piovose che hanno sgretolato le campagne. E per questo non a caso il presidente della provincia Daniele Tagliolini a febbraio annunciò lo stato d'emergenza con 11 frane importanti da gestire ed una quindicina di smottamenti in atto con danni per svariati milioni di euro. Tra le frane di grandi dimensioni ci fu anche quella di Carignano che tagliò in due una delle vie di comunicazione del paese con il fondo valle. E qui ci troviamo proprio sul punto in cui è avvenuto lo smottamento, quello che vedete laggiù in fondo, quell'anfiteatro naturale che si è creato, è tutta la terra che è franata sulla sede stradale e che adesso gli operatori stanno cercando di rimuovere da qualche giorno. E allora chiediamo proprio a chi sta operando materialmente che cosa state facendo? Sì, nello specifico stiamo creando il tracciato per poi poter intervenire per quanto riguarda le opere di creazione dei drenaggi e poi dopo si rifarà la finitura della strada e quant'altro. Quanti metri cubi di terreno sono interessati? Sono diversi metri cubi, qua parliamo all'incirca di 400-500 metri cubi, anche più. Quanti giorni di lavoro ci vorranno? Circa una settimana di lavoro, senz'altro. Ora che la frana ed il territorio sono stabili, il comune di Fano da lunedì ha dato il via ai lavori di ripristino annunciando anche un'importante novità per un intero caseggiato della frazione. L'estensione della rete del gas metano anche a Villa Cartella, dopo che Carignano già ha il gas, estenderemo anche il gas a Villa Cartella, stenderemo per questo sia sulla strada provinciale 45 del Fenile che appunto un tubo fino a Villa Cartella. Sono circa 1500 metri di tubo che serviranno per dare il gas metano a questo abitato un po' più decentrato rispetto alla frazione di Carignano. Dai primi giorni di settembre dovrebbero iniziare a fare questi lavori. Questi sono lavori propedeutici perché ovviamente con le frane e i tubi non si possono posare. La condotta quante utenze servirà? Potenzialmente sono abbastanza perché comunque sia un abitato abbastanza concentrato anche se non grandissimo. Abbiamo accontentato una ventina di famiglie, vuoto per pieno e quindi una risposta importante sia sotto che sopra 20-30 famiglie avranno il gas metano e noi estenderemo la nostra rete di gas per chi in futuro vorrà anche allacciarsi.